Un'esperienza che mi è capitato di fare, che è molto simpatica. Quando il primo lavoro, il primo studio che avevamo iniziato a collaborare e lavorare qui a Milano il 2017, un giorno entra un lavoro appunto in studio, un progetto che è stato confermato, dovevamo viaggiare e andare a Spezze. Spezze è un'isoletta piccolissima vicino ad Atene, a due ore di barca ad Atene. Va bene, allora io e l'altro ragazzo, il titolare dello studio, partiamo in viaggio verso Spezze. Molto bene. Io non sapevo nulla, cioè nel senso non avevo chiesto, sapevo che era un evento, era un evento che dovevamo seguire, però non sapevo chi aveva commissionato il lavoro, chi c'era, eccetera. Quindi niente, arriviamo a Spezze con il nostro viaggio e arriviamo in questo hotel 5 stelle pazzesco. Io, madonna, di solito sì, ti pagano il viaggio e l'hotel, però insomma 5 stelle, una roba atomica. Allora per curiosità, insomma, che evento è? Noi lavoriamo qui, lavoriamo fuori? E praticamente abbiamo lavorato per la famiglia Bulgari, cioè proprio per Nicola Bulgari, il fondatore, penso sia lui proprio il king, no? Cioè il re. È lui. Perché una delle sue tre figlie, è lui, una delle sue tre figlie faceva il compleanno. E io ho detto, è stato assurdo, perché abbiamo fatto sette giorni in quest'isola, che tra l'altro era davvero piccolissima, non c'erano macchine, si girava quasi solo a piedi, cioè una roba bellissima, paradisiaca, pazzesca, a scattare la vacanza delle figlie di Nicola Bulgari con tutti gli invitati da tutto il mondo, eccetera. Quindi mi sono ritrovato io lì, da Cairo, cioè sai che quelle cose mi dicevo... Ma dove sono ferito? Esatto, fuori luogo c'è nel senso, ma non per... Però c'era anche lui, poi è arrivato il signor Bulgari con l'elicottero, è entrato, è arrivato, perché, mi ricordo, è arrivato in spiaggia, comunque il signor anziano, secondo me, 80, 85, adesso non vorrei dire una beninata, ma ci siamo, e si è buttato vestito con i nipotini in acqua. Cioè mi ricordo che aveva le tots, immagini il classico, no? Prendersi l'anci in mare. Si è buttato in acqua, completamente vestito con i nipotini, è tirato fuori, arrivo, sono levato a guardare il corpo, tutti, l'hanno, insomma, rimpacchettato. L'ho fatto così, una settimana, a mangiare con loro, è stato assurdo. Infatti ho un'esperienza molto particolare. No, bigaltro, sai, ho detto, micchia... Ma quando finisci lì, di perfetto, nel mio caso, dici, ma dove sono stato? Che cosa ho fatto? Davvero, cioè, comunque cose che nel senso, anche a livello, poi, cioè, cazzo, un sette giorno, yacht, lusso sfrenato, cinque stelle, piscina, ma... Cioè, anche noi eravamo lì, quindi partecipavamo al compleanno della figlia, quindi eravamo presso lì. Non potevate fare i cairesi, però, se dice cairesi... Esatto, esatto, esagerare, no? Una birretta, una corona e basta. Tra l'altro mi ricordo all'ultima cena che abbiamo fatto in questo rooftop pazzesco, era anche lì in London, perché, appunto, il titolare era repartito un giorno prima, ed è rimasto da solo. Quindi a cena mi sono messo con gli organizzatori, perché anche lì c'erano tutti stranieri, australiani, eccetera. E mi ricordo che, vabbè, insomma, l'ambiente è un po' mondano, facciamo un po' di festa, insomma, di qua e di là. E mi ricordo che era arrivato, tipo, poi anche lì c'era il dress code, quindi tutti camicia, giacca, cravato. E mi ricordo che, tipo, quando è arrivato gli spaghetti e i frutti di mare, no? Io li ho mangiati tutti e mi sono messo a fare la scarpetta con la mano, tranquillamente. Non l'avessi mai fatto. Perché, cioè, ma proprio, infatti mi ricordo che è arrivato l'organizzatrice e mi ha guardato, come dire, insomma, mantieni un po' di contenio, no? E mi ha fatto stare, sta roba. Ma io, cazzo, ho finito gli spaghetti, mi sono messo a fare la scarpetta, insomma, ho raccolto il sugo in maniera molto... Allora, gli è piaciuta la pasta, eh? Sono italiano, sai com'è? Se non lo facciamo è come... Esatto, esatto, esatto. Madonna. Domanda arrogantissima. Vi hanno pagato in gioielli, naturalmente. Beh, è chiaro, è chiaro, chiaro. È arrivato a casa con brillantini ovunque. Esatto, esatto. La chain da rapper, sai, con incastonata di roba dei bulgari. Vabbè, è stato pazzesco, è un'esperienza davvero figa. La fine do' La fine do' Grazie a tutti.